43 lampioni, uno per ogni vittima del crollo del vecchio ponte Morandi di Genova, due saranno così dedicati anche ai giovani fidanzati a Eretini, Stelle e Carlos. È questa l'idea dell'architetto e senatore a vita Renzo Piano per sostituire il ponte crollato tragicamente lo scorso 14 agosto, un progetto presentato al governatore della Liguria Giovanni Totti. Il ponte pensato da Renzo Piano sarà così una sorta di memoriale sospeso tra le due sponde con lampioni altissimi che illumineranno a forma di vela ogni notte per ricordare le vittime di quel drammatico crollo. Il plastico ha una linea pulita con una striscia d'asfalto semplice sostenuta da pilasti come prue di navi, campate corte tranne sopra i binari dove invece sono un po' più allungate. Dunque una sorta di memoriale con le 43 vele di luce a ricordare le 43 vittime del tragico crollo in cui persero la vita anche Stella, 24 anni e Carlos, 27enne e giovani fidanzati a Eretini. La coppia era partita il giorno prima ed era diretta verso la loro meta di villeggiatura in Liguria.